Ben ritrovati a una finestra sul mondo e allora questa è una puntata potremmo dire natalizia no? Perché infatti il Natale si avvicina e come sempre ci sono tantissime cose da fare. Beh innanzitutto i regali. In questo periodo pensate che sono stati più di 26 milioni di italiani che sono andati a caccia di regali da mettere sotto l'albero. Il budget più o meno medio ammonta circa 238 euro a persona. Poi il 40% di italiani quest'anno ha intenzione di regalare libri e capi d'abbigliamento mentre il 36% prodotti di profumeria e il 28% regali gastronomici. Ma poi ok i regali sono stati fatti ma cosa bisogna fare? Bisogna pensare al cenone della vigilia e al pranzo del 25. Infatti pensate che 9 italiani su 10 trascorreranno il Natale a casa con la propria famiglia. E diciamo che tra i cibi da sempre più apprezzati in occasione delle feste troviamo ovviamente al primo posto le lasagne. Seguono panettone e pandoro. Al quarto posto poi abbiamo i tortellini e chiudono la classifica le lenticchie con il cotechino. Sappiamo che è un piatto tipico soprattutto del cenone di Capodanno perché da sempre ritenuto portatore di ricchezze per l'anno nuovo. E quindi questi sono un po' i piatti e poi saranno più di 14 milioni coloro che andranno in vacanza durante il periodo natalizio e la maggior parte resterà in Italia. Andrà soprattutto in località montuose dove ci sono gli impianti sciistici. Ma adesso parliamo un attimo, lasciamo un attimo da parte le tradizioni. Parliamo di un qualcosa che ha fatto davvero molto discutere nelle ultime settimane. A fine novembre l'Unione Europea aveva pubblicato un documento di circa 30 pagine dal titolo Union of Equality, ovvero Unione di Uguaglianza. Si trattava di uno strumento utile nel segno del rispetto della diversità. Per esempio si consigliava di non utilizzare alcun riferimento di genere quando si parla a un pubblico. Ma quello che ha fatto più parlare è sicuramente il capitolo dedicato alla comunicazione in prossimità delle festività natalizie. Si indicava infatti di non dire più Buon Natale ma piuttosto un più generico Buone Feste per evitare di non usare nomi e simboli cristiani. A causa di una marea di critiche queste linee guida sono state ritirate dopo poche ore, dopo che le avevano pubblicate da poche ore. Ma adesso veniamo a voi, cosa ne pensate? E poi cosa vi aspettate dal nuovo anno? Queste due domande le ha fatte il nostro inviato come sempre al mercato di Rivarolo. E vediamo cosa gli hanno risposto gli intervistati. Quest'anno ha già fatto il regale di Natale e quanto ha speso in media? No, io non festeggio il Natale. Io non festeggio perché stiamo in carenza, come si dice, non c'è niente, c'è poco. E nessun regalo neanche per... No, 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 noi i regali li facciamo durante l'anno, quindi non aspettiamo proprio quel giorno lei. Sì, 250. Poco, pochissimo. Eh, poco, poco quest'anno. C'è la crisi. Che bella domanda. Io nei regali di Natale non ho mai fatti a nessuno perché il Natale per me è tutto l'anno. Ci pensa mia moglie e penso che avendo sette nipoti ne spende di soldi, quindi, ma preferisco così. Quanto ho speso? Per i miei nipotini calcoliamo un 150 euro a testa. Come trascorrerà queste festività? In famiglia, con gli amici, lavorando. In famiglia. In casa, da soli, perché, eh sì, con la famiglia per forza. Visto che siamo alla seconda annata di sosta, se riusciamo, se domani il 23 dicembre il governo o chi per esso non si inventa qualcos'altro, la vigilia di Natale, io e la mia famiglia saremo tutte e 43, tutti, insieme a festeggiare queste feste, non il Natale, perché il Natale, ho detto, è per me tutto l'anno. Con la famiglia, i miei figli, mio marito, i miei nipoti, basta. Beh, è normale, come tutti gli altri giorni. Quali sono i piatti tipici che non possono mancare sulla tavola delle feste? Beh, il pesce soprattutto, i gamberoni, quelle così. Secondo me le lasagne, vitello tornato e poi i classici nostri piatti bemontesi. Beh, i piatti, noi siamo, lei siciliana discendente, io calabrese, quindi sono tutti piatti tipici meridionali, quindi dai carciofi, dalla pasta piena, di tutto. Il baccalà che non manca mai alla... quindi ci sarà da godere. Sulla mia tavola? Allora devo fare l'elenco, ma è lungo, eh. Una focaccia ripiena, il baccalà, affettati misti con boulevard, vitello tonnato, passiamo dalla cucina meridionale a quella piemontese praticamente. Sicuramente, ecco. E poi vedremo dei tortellini o degli agnolotti o qualsiasi cosa che uno vuole. La cucina è sempre aperta. Ma tutti, anche pasta e fagioli, guarda, io vado matto. Eh, sì, sì. La carne sicuramente, non c'è festa senza un po' di maiale si dice da noi, poi qui il pesce ovviamente non deve mancare. Qualche settimana fa l'Unione Europea aveva indicato inopportuno dire Buon Natale per non urtare la sensibilità di chi non è credente. Poi c'è stato il dietrofront. Lei che cosa ne pensa a riguardo? Eh, che secondo me il Buon Natale è sempre Buon Natale, no? Allora, su questo posso andare proprio di botto. Io Buon Natale non l'ho mai augurato a nessuno, per ovvie mie ragioni. Eh, ho sempre augurato buone feste, a Natale, a Pasqua, sempre. Ma che l'Europa ci venga a imporre a noi, a noi, tradizionalisti cattolici, e festeggiare il Natale, che vada a fanculo, scusate la parola. Io mi sento italiano da quando sono venuto dal Meridione, in Piemonte, mi sento italiano. Ma europeo non lo sarò mai, mai. Perché farci trattare a pesce in faccia da certi che noi abbiamo sempre dominato, ma veramente ripeto la parola di prima. A chi non è credente? Io quando andavo a scuola, praticamente, c'era una bambina che veniva con me che non era credente. Lei non faceva il segno della croce, non diceva le preghiere, ma la cosa finiva lì. Adesso vogliono togliere i presepi, i crocifissi? No. Cerchiamo di tenere le tradizioni, visto che già vanno scemando, cerchiamo almeno di tenerle. Prepariamo l'albero di Natale, diciamo le nostre preghiere, anche nelle scuole che mancano, come manca anche l'educazione nelle scuole. Cerchiamo di mantenere le tradizioni e basta. E poi chi vuole stare nel nostro paese si adegua, altrimenti fanno dietro fronte. Io sono così. Io non lo dico a nessuno. Se qualcuno me lo dice, lo ringrazio. Un Natale è sempre peggio di un altro. Non è che c'è un Natale che viene meglio. Penso che se sei a Roma ti devi comportare come i romani. Se in altri posti noi ci dobbiamo coprire il capo, mi sembra ovvio che noi cristiani possiamo dire Buon Natale a casa nostra. Io penso che sempre dire Buon Natale fa piacere. Quello sì. Molte cose sono tradizionali da piccoli. Che cosa si aspetta dal 2022? Quello che c'era il 2021 e il 2020 non cambiano gli anni, cambiano i giorni. Quindi speriamo che tutto va di bene, che finisca questa pandemia, che tutto ripossa cominciare come prima o meglio di prima, che i ragazzi possano crescere tranquilli e che ci sia lavoro per tutti. Non che i nostri giovani continuano ad andare all'estero, continuano a essere, come si dice, mantenuti, perché è la parola giusta, dai genitori, perché purtroppo è. Una volta la nostra Repubblica era fondata sul lavoro, adesso è fondata sulle pensioni. Se finiscono le pensioni siamo tutti fottuti. Migliore di quest'anno. Migliore di quest'anno. Solo quello. Un anno peggio di questo. Miglioramenti non ce n'è. Non ce n'è. Forse chi è al governo ce la metterà tutta, però... Più serenità, più tranquillità e... La pace nel mondo! Speriamo che passi sto Covid e basta, perché non ce la facciamo più. È un pochino, diciamo, di tranquillità e di salute. Allora, la maggior parte degli intervistati non ha speso molto per i regali di Natale, poiché, insomma, ci troviamo in un periodo di crisi e non tutti hanno delle grandi possibilità, ovviamente. Poi tutti trascorreranno le festività a casa, proprio perché il Natale è per tradizione una festa che riunisce tutta la famiglia. I piatti più gettonati sono sicuramente il baccalà e le lasagne e poi il fatto di togliere, no, dal nostro uso comune l'espressione Buon Natale non convince tutti. Anzi, la maggior parte, insomma, sostiene che si debbano mantenere certe tradizioni. E poi, infine, tutti, ovviamente, sperano che l'anno nuovo sia migliore rispetto al 2021, per ovvi motivi. Bene, allora, oggi è un giorno un po' speciale, ecco, per tutti noi e per questo programma. Pensate che questa è la puntata numero 20. Quindi, davvero, davvero grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fin qui. Ovviamente noi non ci fermiamo, ma questa sarà solo una breve pausa. Anche noi ci andiamo a riposare un po' per il Natale. Grazie, ovviamente, a tutte le persone che vi hanno dato la possibilità di essere qui, di fare questo programma. E davvero mai più avrai pensato che da giugno potesse partire questa bellissima avventura. Quindi, davvero, grazie. E poi, ovviamente, è una puntata natalizia, quindi buone feste, buon Natale a voi, a tutte le vostre famiglie e un buon anno che il 2022 davvero porti un po' di serenità, che ne abbiamo davvero tutti bisogno. Grazie per averci seguito e a presto. Ciao!